È evidente che un'intuizione può anche restituirci la conoscenza di alcune strade elleniche della Sicilia. Così la strada Camarina Comiso-Licodia, che qui si biforcava per Catana da un lato, per Panormo dall'altro, da me ricostruita su elementi di tal genere, in nostra occasione, come frammento di una trasversale sicula. Trasversale sicula, quindi, diventa un concetto fondamentale. Momento quasi di condivisione con Viaggio a Pace stesso. Ceramica greca, ritrovata nel cammino che porta a sé gesta. Il cammino è un affidarsi alla vita. Questo mio fratello ha camminato come 40 giorni. Ma che siete pazzi? La trasversale è più di un semplice cammino. Sei in una situazione di... veramente di limbo, no? Fecondati con la terra. Fecondati con le piante, con la strada, i passi. Che c'è la storia? La storia c'è c'è!